Mentre continua inarrestabile l'afflusso di migranti sulle coste siciliane, il Comune di Piacenza chiede una differente ripartizione dei profughi nel territorio piacentino. Oggi in città, afferma l'assessore Stefano Cugini, in ospitiamo 88 sui 107 presenti, ma se si ragionasse tenendo presenti i tre distretti del territorio, qui dovremmo accoglierne solo 38. Poiché sono previsti nuovi arrivi con quasi 3.000 persone sbarcate nelle ultime 24 ore, la linea del Comune d'ora in poi sarà ferma e removibile. Secondo l'assessore, ogni singolo paese dovrà farsi carico della situazione, altrimenti il sistema sociale non reggerà. Cugini annuncia che intende affrontare la questione al più presto nella conferenza socio-sanitaria. Interpellato a riguardo, l'assessore provinciale Pierpaolo Gallini afferma discuteremo la proposta del Comune, ma dobbiamo tenere conto delle difficoltà dei paesi più piccoli.